Una nuova promessa si affaccia sulla scena rap italiana, ecco chi è. La mia musica proprio nasce per stupire, non pretende di essere capita. Fosse nato qualche decennio prima, forse Mario Molinari sarebbe stato un cantautore della scuola di Genova, la sua città. L'arma, un'arma, l'arma, la giungla, la salunga su chiacchutare. Ti dico che il cantatore atto italiano mi ha stimolato molto. Invece è nato nel 1994 e con il nome di Tedua è diventato uno degli esponenti più veraci della scena trap italiana. Il suo nuovissimo album Mogli, il disco della giungla, racconta la voglia di riscatto di chi, come lui, è nato nel degrado di una periferia. La giungla urbana è un concept dell'hip hop da sempre. Possiamo ritrovare nel senso della giungla un po' il sapersi adattare all'ambiente circostante. Si può vivere sia da preda che predatore all'interno di questa società. E Tedua ha già scelto da che parte stare. Entro la giungla non giurare, giuda che scusa c'è, sono il più fatto e lo corrono, dando contatto tramite...